Dicevo che oggi affrontiamo il penultimo argomento del corso, che è il problema poi, e diciamo subito anche quale sarà l'ultimo, l'ultimo sarà il controllo ottimo, l'ultimo sarà ponderoso, quello sulla realizzazione meno ponderoso. Allora, problema della realizzazione? Ah sì, ne parliamo dopo, grazie di avermi ricordato. Comunque ora cominciamo questo argomento, poi ne parliamo quando faremo qualche esercizio. Allora, stavo dicendo cos'è il problema della realizzazione. In generale il problema della realizzazione è il seguente. Data una funzione o matrice di trasferimento, G di S o G di Z, intanto le procedure saranno sempre le stesse. Trovare una quaterna A, B, C, D, non fatemelo ripetere per la G di Z, che dia luogo a quella G di S o G di Z. Il che significa? Data una descrizione ingresso-ingresso-uscita del sistema, G di S o G di Z, attraverso quindi matrici di trasferimento o funzioni di trasferimento se il sistema è un solo ingresso o una sola uscita. Calcolare una descrizione ingresso-stato-uscita. è ovvio che il problema ammette, ovviamente scusate un istante ricomincio, è ovvio che la G di S o la G di Z devono essere causali. Ovvero sia ognuna delle funzioni di trasferimento presenti nella matrice G di S o nella matrice G di Z deve avere un numeratore di grado inferiore o al più uguale al denominatore. Nessuna delle funzioni può avere un numeratore di grado superiore al denominatore. In questo caso il problema è sempre risolubile, cioè è sempre possibile trovare una A, B, C, D che dia luogo a quella matrice di trasferimento. È abbastanza ovvio che la soluzione del problema non è unica, anzi, ne esistono infiniti. Perché la matrice di trasferimento eventualmente individua tutta una classe di A, B, C, D, va bene? Non una soltanto, tutta una classe di quaterne A, B, C, D che sono tra loro algebricamente equivalenti. Quando due quaterne A, B, C, D sono algebricamente equivalenti danno luogo alla medesima matrice di trasferimento, cioè trovatane una A, B, C, D e presa una qualunque T matrice quadrata non singolare anche la quaterna, T alla meno 1 A per T, chiamiamolo A tilde, T alla meno 1 per B, C per T, D rimane inalterato. Anche questa quaterna, va bene? Da luogo alla medesima matrice di trasferimento. Quindi la matrice di trasferimento individua tutta una classe, va bene, di A, B, C, basta trovarne una, va bene? Questo potrà essere il campione di tutta la classe perché noi sappiamo già che la relazione di algebrica equivalenza tra quaterne è una relazione, scusate la tautologia, di equivalenza e quindi prese tutto l'insieme delle quaterne A, B, C, D, ovviamente di medesimo ordine, va bene? Queste possono essere suddivise in classi di equivalenza, tra loro disgiunte ogni classe di equivalenza rappresenta un sistema e quindi con una tecnica, con una tecnica non l'abbiamo ancora visto. Di questo tipo individuiamo, una volta individuata una A, B, C, D, questa sarà il campione, va bene, di tutta la classe delle quaterne A, B, C, D. Attenzione, ci potranno essere due classi diverse, va bene? Quindi non algebricamente equivalenti tra di loro e quindi una B, C, D e un A', B', C', D', va bene? Che danno luogo, anche questa dà luogo alla medesima G, D, S, ma che non è algebricamente equivalente a questa, come vedremo tra poco e chiariremo in maniera pulita questo problema. Quindi esisteranno più classi, va bene? In questo momento basta trovarne una, in questo momento. Allora cominciamo con sistemi SISO, problema che dovreste già, la cui soluzione dovrebbe essere già nota, forse ne ho parlato addirittura anch'io, sì, sicuramente ne ho parlato. E quindi prendiamo una G di S uguale N su S fratto D di S uguale nessuna perdita di generalità se suppongo che il numeratore sia di grado inferiore al denominatore, perché nel caso che la G di S avesse numeratore di grado uguale non può essere superiore, va bene? Al denominatore dovrei operare prima una divisione tra il polinomio al numeratore e il polinomio al denominatore ottenendo un quoziente che chiamo D, va bene? Più un resto diviso il denominatore e quindi questo D fa già le funzioni del D della quaterna ABCD, lo calcolo in questa maniera, va bene? Se il grado del numeratore della funzione di trasferimento è già più piccolo, va bene? Del denominatore della funzione di trasferimento vuol dire che D è uguale a zero perché il quoziente tra numeratore e denominatore diventa zero, va bene? E rimane il numeratore come resto. Quindi con questa espressione indichiamo, va bene? La situazione generale di una qualunque G di S con grado del numeratore minore o al più uguale al grado del denominatore. Se è uguale, ripeto, facciamo il divisione, N diventa il resto della divisione, va bene? Ecco, quando ho un rapporto N su D con grado del numeratore uguale, minore del grado del denominatore, è sempre possibile trovare una ABC. B e C l'ho scritto piccini perché ho a che fare con una funzione di trasferimento, non con una matrice. E quindi ho un solo ingresso, B piccino, sarà un vettore, una sola uscita, C piccino, vettore riga. Però vi ricordate quale sarà una realizzazione. Sarà una realizzazione, ad esempio, in forma compagna di controllo, ad esempio. se N di S su D di S è S alla N più denominatore A con N meno 1, S alla N meno 1 più puntolini A con 0 e il numeratore sarà, ad esempio, C con 0 più C con 1S, lo scrivo in maniera inversa come versione crescente dei monomi, più C con 2S quadro, più puntolini C con N meno 1, S alla N meno 1, non ci può essere andare più in là, ovviamente. Allora la mia ABC, lo sappiamo, A uguale, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 puntolini 0, penultima riga puntolini 0, 0, 1, ultima riga meno A con 0, meno A con 1, punto lì, meno A con N meno 1. Il B diventa, fisso sappiamo, è 0, 0, 1. E il C è un vettore che ha per elementi, per sue componenti, i coefficienti del numeratore, che sono in generale N, ancora, qualcuno potrà essere 0, è viva, ma sono il numero N. Quindi C con 0 a partire dal termine noto, C con 1, C con N meno 1. Quindi abbiamo trovato una realizzazione, è una cosa banale, va bene. Ho dimostrato, quindi andatevelo a rivedere eventualmente, che la G di S ottenuta da questa quaterna è esattamente questa. Siamo d'accordo? O c'è qualcuno che ha dei problemi? L'ho fatto di far vedere che è quello, o no? Com'è? Non ho capito. Vabbè, un secondo. Allora, A non lo riscrivo, è la forma compagno-orizzontale inferiore, B è 0, 0, 1, va bene, C è C con 0, C con 1, eccetera. Per calcolare la G di S devo fare C, SI meno A inversa per B. Vediamo SI meno A inversa, scriviamolo forse, 0, 1, puntolini, 0, 0, 0, 1, puntolini, 0. Penultima, 0, 0, 1, ultima riga, meno A con 0, meno A con 1, meno A con n, meno 1. Allora questo è uguale, uguale, 1 su determinante della matrice. Devo fare l'inversa di S, meno A con 0, 0, 0, 0, 0, penultima riga, 0, 0, 0, S meno 1, ultima riga, A con 0, A con 1, puntolini, S più A con n, meno 1. Va bene? Inversa devo fare. Allora è 1 su polinomio, su determinante di questa matrice, che è il determinante di SI meno A, e quindi è il polinomio caratteristico di questa matrice, ma il polinomio caratteristico di una matrice in forma compagna-orizzontale inferiore, lo sappiamo, è il polinomio che ha gli elementi dell'ultima riga cambiati di segno come coefficienti, e quindi 1 su S alla n, più A con n, meno 1, S alla n, meno 1, più puntolini A con 0. E abbiamo sistemato, torniamo un istante sopra, abbiamo della nostra G di S, il denominatore, va bene, il numeratore, il numeratore a cosa sarà uguale? A C, l'abbiamo scritto qui, per SI meno A, inverso per B. Allora il numeratore è, questo è uno scalare, quindi che moltiplica? il vettore C per l'aggiunta di SI meno A per B. Siamo d'accordo? L'aggiunta fratto il determinante è l'inversa, va bene, della matrice. Siamo d'accordo? E allora si tratta di calcolare l'aggiunta di SI meno A. Ma la devo calcolare tutta o mi basta limitarmi a calcolare qualche elemento di questa aggiunta? Beh, questa aggiunta va moltiplicata a destra per B. E B che cos'è? È il vettore 0, 0, 0, 1. E allora tutte le righe dell'aggiunta vanno moltiplicate per il vettore 0, 0, 1, ottenendo il vettore che è il prodotto tra l'aggiunta e B. Ma quando moltiplico la prima riga per 0, 0, 1, cosa mi viene? L'ultimo elemento della prima riga, anche quando moltiplico la seconda. E quindi della matrice aggiunta mi basta calcolare soltanto gli elementi dell'ultima colonna. Siamo d'accordo? Cominciamo quindi a calcolare gli elementi dell'ultima colonna. Questo elemento cosa sarà? Devo prendere il minore di A con 0 e moltiplicarlo per meno 1 elevato a il posto di A con 0 è n,1. Sì o no? Quindi n più 1 e ora vediamo. Per meno 1, ricordiamocelo, alla n più 1. Ma il minore di A con 0, cancello, la prima riga e l'ultima colonna, scusate, la prima colonna e l'ultima riga, va bene, che sono colonne righe cui appartiene A con 0, e cosa mi rimane? Mi rimane questa matrice, che è una matrice in forma triangolare inferiore. E lungo la diagonale cosa ha questa matrice? Tutti meno 1. Siamo d'accordo? E quindi il suo determinante è meno 1 elevato a quanto? Sono n meno 1, va bene, gli uni che sono lungo la diagonale, meno 1 elevato alla n meno 1, che aggiunto A moltiplicato per meno 1 elevato alla n più 1 fa meno 1 alla 2n pari, va bene, 2n, e quindi sempre più 1. E quindi questo elemento qui è, questo qui è 1. Questo minore è il determinante del, cioè è il determinante del minore di questo elemento moltiplicato per meno 1 alla n più 2. Ma il minore, faccio soltanto questo conto, va bene, cosa devo, e poi il resto viene automaticamente, devo cancellare la riga cui appartiene questo meno al con 1 e la colonna. cosa viene fuori? Ancora una matrice in forma triangolare inferiore. Lungo la diagonale cosa c'ha? C'ha un S e poi tutti meno 1. Quindi per S per meno 1, quanti sono gli 1 ora? Non sono n meno 1, ma sono n meno 2, perché un posto sulla diagonale è occupato dall'S. n meno 2 e quindi questo elemento qui è S. Prossimo elemento dell'ultima colonna cosa sarà? S quadro, perché farò lo stesso ragionamento con questo e cancellando questa colonna mi restano 2S lungo la diagonale e poi lungo la diagonale altri 1 e cosa verrà? S quadro. Allora la C scriviamolo C SI meno A inversa per B in questo caso diventa al denominatore S alla N più puntolini A con 0 e al numeratore C moltiplicato il prodotto di questa per questa dell'aggiunta di questa per questa vi dà il vettore 1S puntolini S alla N meno 1 e allora viene la prima componente di C per 1 C con 0 la chiamiamo la prima componente che sarà il termine noto del numeratore più seconda componente C con 1 per S più puntolini C con N meno 1 S alla N meno 1 che non è altro che questo numeratore va bene e quindi facendo quel conto C si meno A inverso per B con A in forma compagna orizzontale inferiore B 0 0 1 C i coefficienti del numeratore viviamo fuori una terna A B C e A quella G di S Morale conclusione data possiamo concludere che data una G di S uguale ad N su D numeratore su denominatore D è uguale al rapporto tra N su D che verrà al quotiente non al rapporto va bene e il quotiente verrà 0 se N è a grado inferiore a quello del denominatore va bene e verrà quel che viene una costante però va bene se N è a grado uguale a quello del denominatore riducendomi quindi a calcolare una A B C di una G tilde di S in cui il numeratore è il resto della divisione è il denominatore sempre lo stesso e questa A B C la posso trovare in questa maniera A in forma compagno orizzontale inferiore B 0 0 1 C i coefficienti C i coefficienti vettore riga 20 come elementi i coefficienti del numeratore a partire dal termine noto non cambiati di segno fino ad arrivare a C con N meno 1 al coefficiente di S alla N meno 1 questa è una realizzazione a partire da questa troverò una classe di realizzazioni quali tutte quelle A tilde B tilde C tilde D tilde e D saranno sempre uguali va bene che sono algebricamente equivalenti a questa A B C però noi potremmo trovare un'altra realizzazione quale come è in quella che si chiama forma compagna di osservazione in cui la matrice A è la forma compagna verticale destra ovvero sia la seguente matrice sì niente A V D uguale 0 0 puntolini meno A con 0 1 0 0 meno A con 1 0 1 puntolini meno A con 2 ultima riga 0 0 meno A con n meno 1 ovviamente qui c'è 1 il C ora diventa 0 0 1 e il B contiene invece i coefficienti del numeratore della G di S e quindi chiamiamolo C con 0 C con 1 C con n meno 1 attenzione a non fare confusione tra gli elementi C del vettore B e il C che è il vettore riga dell'uscita ovviamente questa è un'altra realizzazione di A B C eventualmente D si impone una domanda però a questo punto è algebricamente equivalente a quell'altra realizzazione che abbiamo calcolato precedentemente va bene alla forma compagna di controllo o no se è algebricamente equivalente vuol dire che appartiene la stessa classe di quaterne A B C D prima individuate cioè vuol dire che esisterà una opportuna matrice T che consente il passaggio per algebrica equivalenza dall'una all'altra dalla forma compagna di controllo alla forma compagna di osservazione se non lo è vuol dire che siccome sono certo non ripeto la dimostrazione che è perfettamente uguale a quella di prima va bene anzi va bene si può fare un la G di S è quella di prima uguale denominatore S alla N più A con N meno 1 numeratore C con 0 più C con 1 S eccetera eccetera però se questa non è algebricamente equivalente a quella precedente vuol dire che ci saranno vuol dire che anche lei individua un'altra classe di quaterne A, B, C, D diversa da quella di prima e ci saranno quindi come preannunciavo prima due classi che individuano la medesima G di S se poi ne trovo una terza che non è algebricamente equivalente né all'una né all'altra va bene avrò tre classi e così via siamo d'accordo allora domandiamoci quando è che sarò certo va bene di individuare una unica classe che mi darà luogo a quella G di S punto interrogativo nel caso nel caso guardi le chiedo scusa ma sono invecchiato è giusto va bene nel caso che la quaterna A, B, C, D che io individuo è completamente raggiungibile completamente osservabile in questo caso si dice che ho trovato una realizzazione minima e non esisteranno realizzazioni di ordine inferiore perché non esisteranno realizzazioni di ordine inferiore perché se A B C il D non gioca in ci sarà o non ci sarà ma non gioca ma se A, B, C è completamente raggiungibile e completamente osservabile va bene e quindi A di ordine N il sistema di ordine N è completamente raggiungibile e completamente osservabile se io riuscissi a trovare va bene ah questo mi dà luogo diciamo a G di S una matrice addirittura non soltanto una funzione di trasferimento uguale a C S I meno A inversa per B se riuscissi a trovare questa supposizione sia completamente raggiungibile completamente osservabile se riuscissi a trovare un A' B' C' con A' di ordine N' strettamente minore di N che dà luogo alla medesima GDS questo significa va bene che siccome la GDS dipende da cosa? Tutto l'abbiamo visto dipende dalla parte del sistema completamente raggiungibile e completamente osservabile le dimensioni minime sono quindi quelle del sottosistema completamente raggiungibile e completamente osservabile se esistesse una realizzazione delle GDS di ordine inferiore a questo vorrebbe dire che la ABC non è certamente completamente raggiungibile completamente osservabile ritorniamo al caso in questo momento di un ingresso o una uscita non abbiamo imparato a trovare due realizzazioni A OI BOI 001 BOI e C continuiamo a chiamarlo con pedice OI forma di controllabilità e poi altra realizzazione AVD B VD CVD dove il CVD che è 001 quando è che queste due realizzazioni non sono algebricamente equivalenti pur essendo di ordine N perché cosa abbiamo preso è lo stesso ordine perché cosa abbiamo preso va bene il denominatore pari alle dimensioni della matrice AOI o AVD visto che il denominatore è lo stesso l'una questa e questa sono l'una la trasposta dell'altra ma può darci che non siano algebricamente equivalenti quando vediamo un po' se una delle due fosse ad esempio questa ma una delle due e quell'altra fosse una realizzazione minima se ho giustamente questa è questa la risposta abbastanza non diciamo ovvia se questa fosse una realizzazione minima va bene questa darebbe luogo ad un'unica classe di realizzazioni algebricamente equivalenti va bene e quindi sarebbe algebricamente equivalente anche questa cosa significa che la realizzazione minima non può essere né questa né questa e affinché non sia la realizzazione minima io devo trovare ci sarà certamente non devo trovare ci sarà certamente una realizzazione di ordine inferiore che mi dà luogo a questa medesima GDS ma quando è che questo è possibile solo se nella GDS ho uno zero uguale a un polo se c'ho uno o più intendiamoci ma facciamo l'esempio di uno se è uno zero uguale a un polo quella GDS la posso scrivere con un denominatore di ordine inferiore e quindi trovo una realizzazione di ordine inferiore quindi né questa né questa né questa possono essere minime esempio ma facciamolo banalissimo s più uno fratto s quadro più due s più uno si vede benissimo in questo caso però supponiamo di avere i paraocchi va bene di non fattorizzare numeratore che è già fattorizzato il denominatore si capisce bene che s più uno fratto il denominatore ed s più uno al quadrato va bene c'è un polo uno zero uguali cosa rimane uno su s più uno sì o no siamo d'accordo bene ma non so né leggere né scrivere troviamo una realizzazione di questa GDS in forma compagna di controllo avremo quindi una matrice A o I due per due zero uno prima riga meno uno meno due la seconda riga coefficienti del denominatore ovviamente il termine n di grado più alto B o I uguale zero uno C o I uguale uno termine noto del numeratore più uno coefficiente più e un altro uno coefficiente di s del numeratore questa realizzazione sarà certamente completamente raggiungibile perché è in forma compagna di raggiungibilità la matrice A è in forma compagna orizzontale inferiore B è zero zero uno vogliamo andare a guardare l'osservabilità se fosse completamente osservabile vuol dire che una realizzazione minima è di ordine due e quindi la GDS che è uno su S più uno non torna c'è qualcosa che non va siamo d'accordo vediamo la raggiungibilità e facciamolo nella maniera più classica uno uno vettore C basta che il vettore CA e vedere se la matrice così ottenuta è non singolare allora C per A viene meno uno uno meno due meno uno ovvio che è singolare il sistema non è completamente osservabile o in questo caso i due poli sono tutti due in meno uno gli autovalori della matrice A due per due in questo caso sono due autovalori in meno uno quindi se non è completamente osservabile è inutile chiedersi va bene quale autovalore è interno al sottospazio di non osservabilità e quale autovalore è esterno al sottospazio di non osservabilità in questo caso visto che l'unico autovalore è uno siamo certi che quell'uno è una volta interno al sottospazio di non osservabilità e una volta esterno ma in generale va bene quale sarà l'autovalore o gli autovalori interni al sottospazio di non osservabilità saranno gli autovalori quelli che spariscono nella GDS nella cancellazione polo zero ci dovranno essere se trovo una realizzazione se ho scritto una realizzazione di ordine cinque va bene e trovo va bene che la realizzazione minima è di ordine due va bene vorrà dire che dipende ci sono tre autovalori che non non si vedono nell'uscita va bene per qual motivo non si vedono nell'uscita si possono non vedere nell'uscita si possono non vedere per i seguenti motivi per due motivi il primo l'ingresso non eccita il modo proprio associato a quell'autovalore e alla t per b sarà un vettore che non contiene e alla lambda t lambda 1 va bene e allora è chiaro che se non lo contiene non lo vedo neanche nell'uscita va bene allora quel lambda 1 però che non viene citato dall'ingresso cui modo non viene citato dall'ingresso sarà autovalore come interno al sottospazio di raggiungibilità dipende dalla U dipende oppure posso non vederlo nell'uscita un modo perché pur essendo eccitato da un ingresso impulsivo va bene non lo vedo nell'uscita perché viene cancellato dal C diciamo va bene e vorrà dire che quel modo che non vedo pur essendo eccitato sarà un modo associato a un autovalore interno al sottospazio di non osservabilità allora se io ho una realizzazione ho scritto una realizzazione o meglio ricominciamo se ho una GDS in cui ci sono cancellazioni polo zero e ho scritto una realizzazione ad esempio in forma compagna di controllo vuol dire che il sistema è completamente controllabile perché l'ho scritto io forma compagna di controllo ma non sarà completamente osservabile certamente e avrà degli autovalori interni al sottospazio di non osservabilità quali quelli che nella GDS vengono cancellati nella cancellazione polo zero viceversa c'è una GDS in cui ci sono queste cancellazioni ma non le faccio e scrivo una realizzazione in forma compagna di osservabilità quindi la matrice A verticale destra e così via C uguale 0 0 1 il sistema così ottenuto sarà completamente osservabile ma ovviamente non sarà completamente raggiungibile ci saranno autovalori interni al sottospazio scusate esterni al sottospazio di raggiungibilità che saranno sono gli autovalori che vengono cancellati morale se la GDS è una funzione di trasferimento con numeratore e denominatore primi tra loro e denominatore di ordine N allora esiste una sola classe di realizzazioni posso scrivere la realizzazione in forma compagna di controllo o in forma compagna di osservabilità queste sono certamente equivalenti se N e D numeratore donatore va bene non sono coprimi ovvero se il loro massimo comundivisore è un polinomio diverso da una costante allora e non cancello poliazzeria comune la forma compagna di controllo e la forma compagna di osservazione non sono simili tra loro se ho scritto per trovare una realizzazione minima e poi per oggi chiudiamo perché tra un minuto si apre la porta se dicevo voglio una realizzazione minima cosa devo fare beh se c'è una GDS prima contro una GDS posso controllare le cancellazioni polo zero vedere se con una tecnica può essere quella tutto che si vuole va bene vedere il massimo comundivisore tra numeratore e denominatore se il massimo comundivisore è un polinomio devo fare la cancellazione poi trovo una realizzazione di ciò che rimane quella è una realizzazione minima se l'ho scritta senza fare questo controllo devo trovare il sottosistema completamente raggiungibile e completamente osservabile di ciò che ho scritto se ho scritto una ABC di cui sono certo della completa raggiungibilità ad esempio l'ho scritta in forma compagna di controllo allora dovrò controllare l'osservabilità va bene il lavoro è più lungo va bene certamente il sistema non sarà completamente osservabile gli autovalori interni al sottospazio di non osservabilità saranno quelli che si cancellano nella GDS ovviamente e viceversa se ho scritto il sistema in forma compagna di osservabilità questo sarà completamente osservabile inutile che faccia una decomposizione completa di Kalman perché sono certo della completa osservabilità basta fare una decomposizione di Kalman riguardo al sottospazio di raggiungibilità e prendere il sottosistema che ottengo completamente raggiungibile se scrivo invece una realizzazione generica devo fare il controllo sia sulla raggiungibilità che sulla osservabilità una realizzazione generica generica insomma quale può essere di cui non so a priori non sono certo a priori né della raggiungibilità né della osservabilità può essere una realizzazione in forma di Jordan va bene l'ho fatta almeno di una GDS se non l'ho fatta la rivediamo un istante domani mattina ok ok grazie a tutti grazie a tutti